Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo all'estrazione di un archivio file zip che non è stato estratto, quindi l'operazione non è andata con successo ed è uscito così questo errore. Quindi in questo caso per estrarre così un file zip è possibile usare il programma winrar che è veramente utilissimo nell'estrazione di file, quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti potrà sulla pagina per scaricare così winrar, ed eccolo qua, vai su scarica winrar, scarica winrar. Se non si è scaricato puoi sempre cliccare qua sopra, una volta scaricato andiamo così a installare winrar, scegli così il percorso file dove installare winrar e fai install. Qui ovviamente come puoi vedere può fare anche l'estrazione dei file ISO, quindi in questo caso molte persone usavano il programma diamond tools per fare l'estrazione sul disco, quindi prendere i file su quel file ISO, però con winrar se ti esce un file ISO, winrar può prendere i suoi file e può anche estrarli, quindi scegli così associa un winrar archivi in formato a tutti questi qua, metti pure il jar e fai ok. Configurazione winrar e abbiamo fatto, grazie per aver deciso di utilizzare un winrar. Facciamo chiudere. Possiamo anche cancellare il setup, ora per l'estrazione di un pacchetto rar, per l'estrazione di un pacchetto winrar, tasto destro sopra, mostra altre opzioni ed eccolo qua. Vai su winrar ed eccolo qua, estrai i file in questo pacchetto e ti uscirà una cartella, una cartella come questa, ci clicchi dentro e hai fatto. Hai estratto così il tuo pacchetto file zip con winrar, quindi se questo video è stato utilissimo come solvere così l'errore riguardo all'estrazione dei file zip, che, vabbè, winrar è un ottimo programma per fare l'estrazione dei file zip, quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao.